Ciao Alissa! Ciao! Cosa facciamo di bello oggi? Andiamo in edicola! Sì! Oggi andiamo a scegliere qualcosina in edicola Ma tu vieni così? No! Mi preparo! Ti prepari? Sì! Ok, allora cosa bisogna fare? Uno, vestirti Cosa scegli oggi? Eccolo qua! Cosa hai scelto? Questo! Pronta? Sì! Wow! Eccola qui! Adesso che facciamo? Riteniamoci! Fatto! Perfetto! E ora? Tocchiamoci! Ok! Wow! È a forma di gelato! Sì! Perché a me piacciono i gelati! Ma ti sei mai truccata da sola prima? No! Mamma, tu vuoi anche un po' tu? Sì, dopo trucchi un po' anche me! Dai! Inizia tu! Ma dove te lo metti? Sulle guance? Sì! Mi piace! Vabbè! Ci sono anche i rossetti! Anche lo smalto? In cosa mi stai mettendo? I glitter! I glitter! Sì! Non ci vedo! È tutta glitterola! Bello! Guarda qui che mi hai messo tutti i glitter! Non si vale proprio per me! Dai! Non è male! Siamo pronte per ridicola? Sì! Andiamo allora! Andiamo allora! Andiamo con il cavallo! Sì! Perché anche pronto! Che luce! Al galoppo! Ehi! Sì! anche in salita ecco l'edicola siamo quasi arrivate vai pony cycle vai alissa ce l'hai fatta tutto tutto brava cosa sceglierà alissa vediamo cosa hai scelto ho scelto l'album e anche delle gommine con dentro anche delle figurine mi piace guardare i miei compiti se non ho loro fanno ottima scelta andiamo a casa però che bello sono sconvolta come sei sconvolta sei felice vediamo se stavolta siamo state fortunate intanto speriamo di non trovare un doppione io voglio trovare chi era il rei anch'io no lui ma è diversa però sì però è carino questo è lui versione fumetto però sì carino io spero di trovare dai soffi 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 scarta la carta scarta la carta è un'unicarno sì vai carina evviva sei felice alissa sì perché a me piacciono gli unicorni voglio vedere voglio vedere guarda qua ci deve essere soffi apriamo voglio attaccarne alcune ok mi piacciono guarda alissa anche lui si è truccato beh ragazzi adesso alissa attacca le sue figurine quindi noi vi salutiamo speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao